Siamo tutti forza e faremo lo speciale 300 iscritti su Parco giochi copriremo lo spoiler direi no spoiler ok Ok, a ver, non c'è mai che c'è Andreo Ok, a vera, non c'è Non c'è, non c'è Non c'è, non c'è Non c'è, non c'è Non c'è Non c'è Sarà un imprese molto difficile Ma La fine verrà anche una bella cosa Ma a me delle armi non me ne vedo Non so sta più Non so il materiale Non c'è Struge le posi di tutto Magari Ghi alberi Ghi alberi Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.